Iniziamo con Silvia Camertoni Silvia Silvia è giustificata, è con la banda per cui faremo in modo di farle avere la Costituzione qua abbiamo Samantha Canestrini e tra lei c'è la sorella Ilenia c'è la sorella Ilenia di Samantha Canestrini e faremo in modo di avere anche a lei la Costituzione proseguiamo con Simone Castelli Simone Castelli ancora avanti proseguiamo con Claudio Cimini Claudio Cimini proseguiamo con Eleonora Greco un applauso per Eleonora oggi naturalmente è un giorno di festa una festa straordinaria magari questi ragazzi sono fuori a fare una gita fuori porta per cui avranno comunque nelle loro abitazioni il tempo mi suggerivano per cui riceveranno sicuramente nei loro comuni poi una copia della Costituzione c'è Matteo Iori Matteo Iori altro maggiorenne del nostro territorio dal sindaco di Pieve Bovigliana poi andiamo avanti con Michelangelo Morichetti e la caprellata dei Maggiorenni nel comune di Pieve Bovigliana si conclude con Martina Pondani grazie al sindaco Sandro Luciani naturalmente farà vedere grazie a tutti